Hai problemi con la linea, i 200 giorni che non possono riprodurre. Finalmente arriva l'IRIEM, e puoi guardare senza limiti. L'IRIEM ti dà la rete veloce senza limiti 200 giorni. Senza problemi di internet, pensano il canale YouTube. Pisci e amore ci pensano loro. Ehi, ora siete connessi, liberi della linea... Pisci e amore siamo connessi. IRIEM, Social Revolution.